... ... Lion e Chico stanno giocando a... ...ora tocca a Chico nascondersi. Lui deve trovare in fretta un nascondiglio prima che... ...Lion inisca di contare. One hour later... ...Lion deve scoprire dove si nasconde Chico. E cosa sei Willy il coglione? Lion ha trovato Chico. Guarda... ...vaffanculo a te e al tuo spawner di merda. Ora tocca a Lion nascondersi. Two thousand years later... Chico. Deve scoprire dove si nasconde... ...to cazzo. Porco! Cos'era quello strano rumore? Ancora piselli! Ecco ancora quello strano rumore. Cosa può essere? Figlio di puttana! M'avete rotto le palle! Cosa! Cosa! Cosa!